Sabato 1 dicembre 2012, un viaggio nel tempo alla scoperta della musica del futuro. Hard Forum presenta Back to Hard, special guest star from Masters of Accor, JDA, international guest from Mocum Records, Chosen Few. E ancora DJ Vortex, Alex Coma, Francesco Noiz, Roger, per un evento imperdibile. Sabato 1 dicembre, solo per una notte, Back to Hard, presso Locanda Atlantide, Via dei Lucani 22B, Roma, ingresso 10 euro in lista o entro la mezzanotte.